Orbene, qui ci sono tutte le cellule bersaglio e vi risparmio, non è un problema. La cosa invece interessante è che in Terleukina 1 stimola le metalloproteasi di matrice, stimola l'ossido nitrico, le cicloossigenasi 2, le prostaglandine E2 e tutte queste poi variamente combinate a seconda del tessuto, possibilità, pnei, ormoni, sesso, abbattimento delle difese immunitarie, il mondo, farà più o meno quello che noi chiamiamo un fenomeno infiammatorio, qualche volta più con fluor che con calor, qualche volta più con dolor rispetto a tumor e in ogni caso tutte a funziolesa. Questo è uno schema e deriva da tutte, ripeto, è una cosa che ho pubblicato, ovviamente per ciascuna di queste ci sono le fonti bibliografiche grazie alle quali è stato possibile creare questo. Qui c'è un rapido esempio, poi vado inoltre, di come in pratica è possibile utilizzare molecole pro-infiammatorie diluite in una maniera tale per cui appaia la propria attività modulante sul fenomeno flogistico più o meno. Troviamo il tumor necrosis factor, in questo caso è l'alfa, l'interleuchina 1, ma anche la 2 e anche la 6. Vedete che a volte da sole, a volte unite ad altre citochine, come in questo caso, differenti tipi di combinazioni di medicinali low dose per diverse forme, da quelle batteriche a quelle virali, da quelle fungine, proprio perché ciascuna interleuchina, non lavorando da sola, in un network parla meglio o non parla ad una certa combinazione elettromagnetica, che sia poi un DNA virus piuttosto che un RNA virus, o le lipoproteine di membrana di un batterio, che noi poi classifichiamo, o di un fungo, siamo passati dalla chiave di ferro per muovere la serratura ad aprire la stessa identica serratura con la chiave magnetica. Qui invece è l'uso di citochine anti-infiammatorie per alcune cose. Vedete che in certi prodotti, CitoMix è uno di questi, c'è sia la parte pro e la parte anti, sempre di citochine, sempre riguardanti l'infiammazione, secondo quello che noi vogliamo o pensiamo di poter modulare. Sì, ho capito, ma queste cose già si sanno. E la risposta è no, non si sanno. Dette così si sanno da poco o in qualche maniera si sanno in una maniera diversa da come si sono sapute fino adesso. Qui per esempio avete un esempio caratteristico del tentativo. Attenzione perché è stato un tentativo, sono stati studi, sono stati lavori, sono stati formulazioni, sono stati dei farmaci con un nome, virgola, sono stati farmaci ritirati per gli effetti collaterali, punto. Io non sto parlando di cose da poco, perché sto parlando dei bloccanti del tumor necrosis factor alpha e i bloccanti dell'interleuchina 1. Allora, questi sono i nomi, il fliximab è un anticorpo anti-TN-alpha, l'etarnecept è antagonista al recettore del tumor necrosis factor alpha e l'adalimumab è un anticorpo monoclomale umanizzato TN. Il bloccante IL1 è più difficile, più criptica, l'interleuchina 1 rispetto, vedete che ne hanno trovati tre per il tumor necrosis factor alpha, che non ha un recettore toll-like, rispetto a un recettore toll-like che continua a mutare per poter eleggere il ligando. Il bloccante dell'interleuchina 1 è soltanto l'anarchinra e quindi sono stati utilizzati per forme, ovviamente siccome sono dei bloccanti la pro-infiammazione, come terapia antinfiammatoria per diverse patologie. Beh, effetti collaterali locali, vabbè a questi si può anche soprassedere. Così in linea di massima, però arrossamento e chimosi dolore, COE in 2002. Sistemici immediati, io qui non ho messo chi, voi dovete immaginare che questi 11 punti, ciascuno ha un autore, non l'ho messo vicino perché altrimenti non ci stavano la slide. Comunque per coloro che volessero avere delucidazioni io posso fornire bibliografia soddisfacente. Sintomi tardivi sistemici, aumentato rischio di infezioni batteriche, micotiche e riattivazione di tubercolosi. UTRS-Massias 2007. Quindi questi farmaci in parte sono stati ritirati. Perché hanno questi effetti se sono in dosaggi farmacologici? Qui c'è una review di Shenfield 2004 sui effetti collaterali di Eternecept e Infliximab, sono Tumor Necrosis Factor Alpha Blockers, che comprende circa 150 pubblicazioni ed include l'insorgenza di linfomi, crisi cardiaca congestizia, malattie demilienizzanti, sindrome lupus-like, infezioni invasive da miceti e da altri patogeni opportunisti. Questi farmaci no grazie. Non posso pensare di curare un'artrite reumatoide e rischiare, nella migliore dell'ipotesi, forse una sindrome lupus-like. Fosse mia madre? Non il mio paziente, mia madre. Non glielo darei. E se non lo do a mia madre, perché lo devo dare al mio malato? La ragione dell'insorgenza di effetti collaterali gravi con l'uso di citochine, anticitochine o antagonisti dei recettori specifici per citochine, sta soprattutto nella down regulation per eccesso di ligando. Certo, la quantità di recettori che noi abbiamo per le citochine è esattamente quella imposta dalla quantità di citochine. Ma la quantità di citochine è molto bassa. Stiamo parlando di fentomoli. Stiamo parlando di fentomoli. Non stiamo parlando di grammi. Stiamo parlando di fentogrammi. Non stiamo parlando di milligrammi. Un milligrammo rispetto a un fentogramma è un pallone da calcio rispetto al sole. Quindi noi stiamo parlando del pallone da calcio, non del sole.